...comodi in quel lettone. Temo che ci staremmo un po' stretti. Io non vivo da sola. A proposito, ti presento Frederick. Buongiorno. Piacere. Ho capito. Cosa? Ho capito perché... Perché quindi tu sei... Sì. Beh, non ti bacio allora. Potremmo fare una cosa a tre? Sì, ma... Ora sto andando. Adesso no, perché devo andare. Ma posso tornare, per esempio, stasera se vuoi. Sì, posso tornare se vuoi. Scherzavo. Ah. Beh, vado. Ciao, Belli. Signor Michel, saluti. Sempre acceso sul canale 2. Non me ne vuoi per Magali, vero? No, 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 perché... Mi hai fregato. Mi sembrava strano che mi resistesse. Non mi era mai successo. Ci diamo un bacio? Oh, sì. Ma sì, sì, certo. Yvonne. Che dritta che sei. Beh, ciao, Yvonne. Oh, aspetta. Credo che non ne avremo più bisogno. Beh, ti saluto. Togli quel piede da lì. Dai, vieni. Sì. Qual è la tua banca? Ah, sì. Mi scusi, le dispiacerebbe spostare la macchina? Perché è proibito parcheggiare qui? È scritto là. Me ne vado subito. Molto gentile. Perchè il di rompicoglioni? Non sei nemmeno in macchina. Questione di principio. Sati, tu avviati, io vengo subito. Allora, che fai? Arrivo.